L'anno scolastico si è chiuso ma per gli allievi della scuola Irigem si è aperto il sipario su un evento che ha saputo raccontare il fascino, la crescita professionale, l'estro creativo e tutta la fantasia necessaria per mettere in scena, anzi in passarella, la sfilata Irigem Beauty, icone di stile. Un defile nel quale gli allievi di Irigem, settore benessere, hanno riproposto in passarella beauty looks delle icone dello spettacolo dagli anni 50 ad oggi facendo sfilare assieme emozione e bellezza. Rete Veneta riproporrà la sfilata domenica 10 luglio alle ore 16.15. Rete Veneta riproporrà la sfilata domenica 10 luglio alle ore 16.15.